Dove vogliamo andare? E andiamo a Londra. A Londra addirittura per trovare... La nostra Sara Pomparelli. Ciao Sara. Eccola. Ciao. Lei parte da Coringa, vive al nord e poi arriva a Londra dove inizia questo lavoro che davvero distrugge tutte le piattaforme virtuali. In pochissimo tempo. Eh sì, e poi guarda com'è bella, giovanissima. Quindi fammi capire come funziona. Partiamo da zero. Vuoi organizzare una cena? Io e lei siamo due sconosciuti. Come fai? Sì, praticamente è un'app che ha sostituito tutte le app di dating o di conoscenza. Soprattutto, sai, nelle grandi città è difficile magari riconnettersi con gli amici o con persone nuove, quindi tu ti iscrivi e poi il mercoledì sera ti arriva una notifica e ti invitiamo a cena con altri cinque sconosciuti. Wow, ma questo è un modo fantastico. Ovviamente ognuno indica le indicazioni, le preferenze, l'obiettivo, vero? Esatto, praticamente c'è un algoritmo che ti mette, ti matcha con le persone giuste e poi praticamente a cena le inconosci, ma prima ti diamo qualche dettaglio. Musica 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 Musica